Siamo con Stefano Fumagalli, giornalista Rai del Tg2, inviato e che ha iniziato la sua esperienza giornalistica proprio qui a Telenova, quindi lo accogliamo con una particolare gioia d'affetto. Grazie, mi fa molto piacere essere qua. Grazie, vorrei iniziare proprio dalla tua professione, quando hai capito che essere giornalista avrebbe coinvolto tutta la tua vita, che cosa è scattato in te? Non è stato semplice capirlo, perché era più una curiosità, una voglia di assaggiare diverse realtà e quella giornalistica è una professione che ti consente di passare di palo in frasca, la mattina stai raccontando una storia, al pomeriggio magari una diversa. Durante gli studi universitari c'è stato un incontro, lui lo sa bene, posso citarlo, che era il mio professore con il quale poi ho fatto la tesi di laurea, che si chiama Oliviero Bergamini, era un giornalista della Tgr locale, della Tgr Lombarda e che però mi incuriosiva perché faceva un bel corso di giornalismo e diceva alla mattina appunto io devo fare, oggi faccio lezione, però poi pomeriggio devo andare, poi andava di qua, poi è andato al Tg3, è ancora più largo il suo campo d'azione. E questo racconto suo mi ha talmente intercettato che poi ho fatto la tesi con lui, lui ha fatto una carriera meravigliosa e prosegue e quindi da lì insomma la mia voglia di fare giornalismo che poi è passata proprio da qui, anzi qui è stato forse il luogo principale dove poi sono riuscito insomma ad iniziare in qualche modo. E pensare al giornalista televisivo, che cos'è che ti è interessato di questo campo particolare del giornalismo? Essere davanti a una telecamera, comunicare con tutto te stesso, non soltanto con lo scritto? Ma no, non ho mai pensato a me comunicatore, piuttosto credo che il giornalismo televisivo in generale video abbia qualcosa in più perché ha più livelli di linguaggio, uno può scrivere benissimo ma deve anche questo scritto stare assieme a delle immagini fatte bene, scelte bene a quei servizi che spesso ci si confronta in redazione, non sono più televisivi di altri, cioè avendo più linguaggi devi sfruttarli tutti, non è un giornalismo da scrittura e basta che è una dote importante ma secondo me è più completo su certi versi, ha dei ritmi magari differenti però si può fare un racconto davvero più coinvolgente per chi lo ascolta, quindi mi ha incuriosito riuscire a maneggiare questi linguaggi, credo sia importante e cercare di farlo bene passa da, chiaramente, brave professionalità attorno a te, non sei da solo a scrivere col tacquino, c'è chiaramente un bravo regista se sei in studio, un bravo cameraman se sei fuori e così via, in squadra si crea un bel racconto. E a chi ti ispiri se vogliamo un po' vedere i tuoi riferimenti, c'è qualche grande giornalista internazionale a cui ti ispiri per la tua professione oppure hai un tuo stile originale che senti tuo? No, non personificherei troppo però credo mi piaccia molto lo stile un po' anglosassone di fare giornalismo, poi ci sono stato per tanto tempo, ho vissuto fuori in Inghilterra per molto tempo, quindi un racconto magari piuttosto asciutto, cioè via gli aggettivi si racconta quello che è e si cerca di essere il più chiaro e nitido possibile, perché io dico sempre, noi non stiamo parlando a un uditorio che sta in una conference room dove tutti stanno attenti col foglio in mano, ma al contrario la nostra deve essere un'informazione che è sì precisa e accurata, ma che arriva in case dove uno sta facendo i piatti e intanto il bimbo piange e intanto la nonna ha bisogno e quindi questa è la nostra missione, cioè riuscire a portare delle informazioni precise ma in un contesto che non sempre tutto orecchi, devi essere tu bravo a intercettare, parlando semplice, cercando di arrivare al messaggio chiave del tuo racconto, che sia un racconto, che sia una notizia. E in questo vedi una grande differenza tra la modalità di fare giornalismo televisivo nello stile anglosassone e come noi siamo invece abituati a vederlo qui in Italia? Sì, per certi versi sì, secondo me c'è stata un po' troppa commistione, si mescolano un po' tanto i linguaggi del notiziario, cioè della newsroom, quella che è il telegiornale e quello che è un programma, dove invece ci sono tempi diversi, si può raccontare in un altro modo. In Italia come per i giornali non esiste il tabloid inglese che è magari un po' buttato, un po' strillato e che però fa alti numeri e invece il giornale serio che è più pensato e ha grandi firme e che invece è destinato a un pubblico diverso, altrettanto in Italia i quotidiani sono un tutt'uno, quindi a differenza di come sono quelli inglesi. La televisione ha fatto un po' la stessa cosa, cioè non è riuscita a distinguere appieno tra un messaggio popolare e un messaggio invece pochino più asciutto del notiziario, si è un po' mescolato tutto e quindi ogni tanto c'è il programma che scimmiotta il notiziario e il notiziario scimmiotta il programma e quindi c'è il servizio un po' troppo sentimentale magari nel notiziario dove ci sta fino a un certo punto e altrettanto il programma che si mette a fare invece il notiziario. Insomma, secondo me un pochino più di divisione degli ambiti ci starebbe. Tuttavia credo che in Italia si faccia un buon racconto di quella che è la realtà. In tutti i modi noi abbiamo avuto, e questo è un esempio, televisioni regionali che hanno portato avanti alla grandissima la missione di raccontare il territorio e così via l'altrettanto sul nazionale. Credo si racconti abbastanza bene. Proprio per andare su questo racconto dei fatti della vita possiamo ritornare un attimo all'inizio della pandemia. Quando tu sei stato chiamato ad essere inviato qui a Milano e nei luoghi dove la pandemia era più forte e si vivevano momenti tragici, a spiegare, a raccontare cosa succedeva. Qual è la tua esperienza in quei momenti? Che cosa hai saputo raccontare? Cosa è stato difficile dire e far capire? Dunque, è nato tutto perché io ero di fatto, forse l'unico, adesso non ne ho certezza, ma penso di sì, l'unico residente a Milano in quel momento del Tg2. Quindi con la fretta chiudono le frontiere, chiudono le regioni. Ma che succede? C'era un po' di confusione in quei momenti. Ho detto, signori, vado io. Io ero alla redazione esteri del Tg2, però si rendeva necessario qualcuno che stesse per un po'. Ricordo le prime chiacchierate con i miei capi, con il mio direttore. Si diceva, guarda che sarà cosa lunga, però è vero che vai nelle tue terre, verso casa tua, però immagina che almeno un mese dura questa cosa, pensa. E poi invece è durata quanto sappiamo. E quello che è stato difficile credo sia stato proprio capire cosa stava succedendo e cercare di indirizzare il racconto, perché all'inizio era solo un guardarsi in giro e vedere cose che succedevano. E allora le mascherine che spuntano, i negozi che chiudono. E raccontavi visivamente cosa succedeva. Poi piano piano siamo entrati nel discorso di andare nelle valli, nella Bergamasca, a capire sempre di più questo nemico che era invisibile, che anche per noi, che eravamo gli unici rimasti in giro, c'eravamo giornalisti che ci si vedeva nelle città deserte e forze dell'ordine e basta. Anche per noi era difficile perché tu arrivavi a casa la sera e non neri certo di aver finito la giornata come quando sei, si fa sempre l'esempio, questa è stata una guerra. No, non è proprio vero, perché quando sei in guerra, finisce la giornata, riesci a arrivare in branda, è finita. Qui non eri certo, perché arrivavi con i vestiti, oddio che devo fare, devo mettere tutto fuori e poi disinfettarsi tutto e poi dove sono stato, sono tutti in casa e noi siamo gli unici in giro, quindi certamente non va bene questa cosa. Insomma, è stata davvero una sfida molto difficile che spero di aver raccontato in modo più, anche lì, asciutto e attinente ai fatti possibile, era l'unica cosa che si potrebbe fare. Ma qualche esperienza umana che ti ha toccato in quei giorni? Sei venuto a contatto con esperienze particolari, immagino con paesi in difficoltà, cittadine chiuse, dove tutto era, come dire, lasciato veramente a una situazione forse indescrivibile in un altro momento storico. Guarda, la cosa che più mi ha colpito in assoluto, sicuramente parlando appunto delle valli bergamasche, è stata la dignità e la, come dire, la forza e la dignità di quelle persone che pur avendo personalmente avuto storie davvero terribili, cioè persone che perdevano i propri cari e li perdevano non solo come si intende, cioè moriva qualcuno, ma andavano perse le ceneri delle persone, cioè una cosa che a pensarci fa venire i brividi e perse sono, non sono mai state più trovate per diverse famiglie. Eppure andare a raccontare queste persone che appunto cercavano di trovare un senso, poi c'è stata l'inchiesta ancora in corso, bisogna capire, ma nel frattempo il nemico appunto del virus era ancora lì, no? Serpeggiava. Insomma, quello mi ha colpito molto, il loro racconto e come l'hanno vissuto. Altrettanto, chiaramente, l'immagine della città vuota per così tanto tempo, la città Milano, ma non solo, resta un po' indelebile in chi è stato, noi eravamo davvero sempre in giro dalla mattina alla sera e quando, posso dire che quando poi le persone sono tornate ad andare in giro, noi eravamo talmente, noi dico io la truppe e chi era in giro con me, talmente abituati a non vedere nessuno e più o meno si era trovato un equilibrio in questa assenza, che vedendo le persone eravamo noi impaurite per loro, dicevamo ma no, ma pazzi, andate a casa. Sembrava un livello sovrapposto, un'immagine sovrapposta una città che era vuota, ormai ci eravamo abituati che fosse vuota e invece queste persone giustamente tornavano alla vita e poi abbiamo raccontato anche quello, però eravamo noi più impauriti a furia di stare in giro. Il passaggio è stato, come dire, interessante proprio dall'essere soli, poi ritrovare contatti che però si faceva fatica ad avvicinare proprio per un'esperienza e una paura anche di contagio. Sì, sì, è vero, c'era la paura, c'era poi, però la paura è stata necessariamente messa da parte per raccontare, cercare di farlo al meglio, andare a raccontare storie che andavano dagli ospedali ovviamente alle famiglie, a chi perdeva il lavoro, perché poi il tema sanitario si è mescolato un po' con un altro. Mi viene in mente una storia che avevamo girato di un signore che a un certo punto dice siccome io mi occupo di audiovisivi, quindi questi materiali che qui ovviamente abbiamo in abbondanza, però feste non ce ne sono, sagre non ce ne sono, in qualche modo possibilità di lavorare non c'è e allora cosa ha fatto? Ha regalato tutto quello che aveva, tutto il suo materiale l'ha regalato, si parla di tanti mila Euro e ha deciso di fare altro, perché ha detto ora che si torna a una normalità passa talmente tanto tempo che questo materiale sarebbe in qualche modo vetusto, quindi lo regalo, chiaramente mettendosi in gioco e mettendosi a rischio personalmente, però storie come queste poi ce ne sono tante gente che ha perso il lavoro. C'è spazio per la buona notizia oppure un cronista è sempre alla ricerca del tragico, della cronaca nera, di situazioni che forse toccano di più. Diciamo che è ovvio, dico un'ovvietà se dico che la brutta notizia interessa di più, ma non è che interessa a noi, ma se immagini la classica scena, quello che racconto sempre, se sei a un matrimonio e tutti parlottano tra sé e nessuno dà l'attenzione a un singolo evento, se senti uno strillo in fondo alla sala vedi che tutti vanno a vedere cosa è successo e ancora di più se quello strillo grida il nome tuo, quindi se sei in una situazione di cronaca dove il tuo paese è coinvolto, una persona che conosci, qualcuno che faceva il lavoro, che fai tuo, che fanno i tuoi figli, è chiaro che vieni coinvolto e ascolti di più perché ti coinvolge personalmente. Questo è la parte chiaramente delle notizie un po' più classiche da telegiornale. La buona notizia ha spazio? Sì, come no? Deve esserci e spesso le diciamo, è chiaro che non puoi mettere, come dire, se metti insieme tutte buone notizie diventa una falsità anche quella, non sarebbe vero. Il nostro mondo è fatto di notizie belle e notizie brutte e noi dobbiamo cercare di rappresentare quello. Tuttavia ci sono molti begli esempi di programmi che raccontano buone notizie. Noi abbiamo una rubrica che si chiama tutto il bello che c'è che racconta proprio quello. Quindi giustamente ci sono anche momenti di serenità e il notiziario non è solo di notizie brutte, però è abbastanza naturale, fa parte del nostro modo di intendere i racconti e le cose. Qualche cosa hai già detto, ma quindi l'informazione verso dove va? Che futuro ha l'informazione? Come oltretutto in una miscela, in un mix di mezzi che vengono a occupare degli spazi che a volte erano soltanto riservati a dei professionisti, ora tutti possono fare un po' di informazione e quindi cambiano un po' la struttura della comunicazione e quindi dell'informazione. Quale futuro? Io penso di sicuro cambiano gli spazi, nel senso che i materiali si rimpiccioliscono e quindi un'informazione televisiva che solo qualche anno fa per fare una diretta in mezzo alla strada necessitava di un camion. Tecnicamente c'era un camion, lo spazio era quello dei macchinari che via satellite o via quello che era, mandavano un segnale. Adesso con un apparecchio che è poco più grande di un cellulare, tu sei in diretta sempre, da qualsiasi posto del mondo, quindi già cambia in quel modo lì e quindi cambia la vicinanza, la prossimità alla notizia o a quello che è. Quindi cambiano gli spazi, cambia la tecnologia, cambia la rapidità, non sempre però questo, l'eccesso di rapidità fa sì che siano più accurate o più approfondite, magari si viaggia un po' più sulla superficie, ma ce ne arrivano talmente tante che appena ne hai assorbita una te ne sta già arrivando un'altra e quindi si rischia di non approfondire mai. Quindi il giusto equilibrio sta proprio tra riuscire a raccontare giustamente in fretta se c'è qualche trend, qualcosa da raccontare, ma senza perdere in accuratezza o in attenzione. Ho fatto caso che hai degli interessi particolari, cioè per esempio i motori, una tua visita alla Ferrari ti ha molto colpito immagino e ne hai parlato volentieri, quindi questo lascia forse intravedere un futuro come un giornalista specializzato di qualcosa o rimarrai sempre con uno sguardo ampio sulla realtà umana. No, è vero che i motori assolutamente, quando io ho passato un po', si trova tanto materiale che ho girato, ho avuto la fortuna di girare in tanto tempo dalle zone di guerra a qui, tanto tempo qui chiaramente l'ho passato, in questo studio diciamolo, ho fatto l'ultimo telegiornale prima poi di chiudere questa esperienza con Telenova e poi me ne sono andato a fare altro, poi ho iniziato l'esperienza Rai, quindi insomma, ce n'è di materiale. Quello dell'automobilismo è certamente la mia passione più in più del calcio, questo servizio che dici l'ho fatto di recente, ho avuto la fortuna di andare a Maranello, la Ferrari lo ha condiviso sui suoi social, quindi molto bello, non mi ci vedo troppo chiuso in un unico settore perché, per quanto abbia già toccato tanti aspetti del giornalismo, ma ce n'è da imparare e come no. Però proprio perché all'inizio mi dicevi cosa ti ha ispirato, era la curiosità, la voglia di assaggiare tante cose, chiudersi in un settore chiaramente me ne farebbe perdere di altri, quindi preferisco fin quando è possibile, fin quando ho la capacità e l'aiuto di chi mi sta attorno di usare tanti linguaggi, di provarne un po' tutti, magari di trovarne di nuovi, Italia, estero, motori, cronaca, insomma questo credo sia l'approccio. E la voglia magari di mettere anche tutta questa tua contatto con l'umanità varia e interessi vari in un libro, è già venuto o è in futuro? Chi non sogna di scrivere un libro oggigiorno? Certo, però no, credo che per adesso no, ma semplicemente perché io penso che se il libro è genuino e quindi il libro è inteso come una spremuta della vita di qualcuno, ma anche di narrativa, non necessariamente deve essere un saggio, un libro di narrativa a mio avviso deve essere una storia, si narrata, ma contenere tante emozioni che uno ha vissuto e penso che bisogna prima viverle, prima di mettersi a scriverle e quindi c'è ancora un po' di tempo. Quindi sei ancora molto giovane, c'è tempo di immagartinare. C'è da assorbire ancora un po', poi come un buon whisky, un buon vino deve star lì un po' e poi qualcosa di buono esce, se esce qualcosa di buono. Anche questa è esperienza anglosassone. Se no, bravo, se no, se esce una schifezza, non lo so, però di sicuro c'è un po' di tempo. Io non sono grande fan dell'instant book di chi, proprio perché poi si perde in accurate non scrivere al volo qualcosa, non mi piace, non è quello. Poi già ho la fortuna di lavorare tutti i giorni con un pubblico che ci segue e poter raccontare senza mettersi in primo piano, anzi possibilmente stando da parte, ma con un occhio particolare a questo, a quella storia è già tanto così e ringrazio già di quello. Poi il libro, le cose, c'è tempo. Una curiosità, noi ovviamente come Telenova siamo visti da un pubblico soprattutto lombardo, tu invece ti indirizzi a tutta Italia, allora tu cronista lombardo da Milano riesci a parlare con Roma o c'è sempre un po' di rivalità e quindi anche di incomunicabilità tra queste due grandi città che fanno la storia quotidiana anche della televisione, perché sappiamo che gran parte della produzione avviene tra Milano e Roma. Questo sì, no, rivalità direi proprio di no, anzi c'è grande interesse, il fatto di essere qua, di conoscere chiaramente il territorio ha fatto scoprire cose ad altri, altrettanto le mie esperienze, io sono stato a Roma prima a Cagliari perché lavoravo alla TGR, eccetera, quindi l'interesse è un po' di tutti, sono grandissimi professionisti quelli che lavorano come, ma quello che abbiamo notato ed è una realtà proprio che non potevamo immaginare è che il discorso della pandemia per esempio che è un problema globale, ha interessato l'intero pianeta, uno che stava dall'altra parte del mondo, ci si immagina abbia preso il virus nel posto X, portato con l'aereo nel posto Y e quindi ci ha reso un po' tutti più vicini a livello mondiale, ma invece a livello italiano e in generale nelle piccole comunità non si viveva la stessa cosa, cioè l'esperienza vissuta a Milano o a Bergamo o a Roma in quegli momenti lì era difficile doppiamente da spiegare perché ciascuno viveva una realtà diversa, già il milanese col bergamasco non ha percepito la pandemia nello stesso modo, il bergamasco col romano è ancora diverso, la regola era la stessa, si sta in casa o si mette la mascherina o si sta fuori o dentro il ristorante, ma si percepiva in modo molto diverso, quindi da una parte la globalizzazione estrema e dall'altra la localizzazione estrema, dove ciascun comune quasi viveva la propria realtà, ma perché alla fine le nostre vite sono lavoro, supermarket, casa e asilo magari, quindi di fatto quello che vedo in televisione non è detto che rappresenti la mia realtà, quindi lo vedo, lo sento, ma non è che lo capisco per forza e così insomma abbiamo visto che quel momento storico lì, molto interessante per certi versi, chiaramente drammatico ma interessante da raccontare, si è diviso su questi due canali, il grandissimo e il piccolissimo. Quasi concludendo, hai già parlato dei tuoi ricordi proprio di questo studio di Telenova, dell'ultimo telegiornale prima di partire per Londra, qual è altro ricordo qui a Telenova? Mille, mille ricordi, qui ho iniziato con, li devo citare tutti, poi ne dimentico qualcuno e lo rifacciamo, con Adriana Santacroce, Mimmo Zingaro, con Paolo Pirovano, Paola Blandi, Pinuccio del Menico, Gianni Visnadi, Alberto Carreras, tutte persone che hanno vissuto con me in quei momenti dove io mi presentavo da, come dire, inespertissimo, adesso inesperto, allora inespertissimo giornalista e volevo fare questa cosa, molto determinato, molto, come dire, deciso di voler fare una cosa, però è stato grazie alla loro bravura e agli spazi piccoli che sono riusciti a darmi prima e poi piano piano, prendendo fiducia sempre maggiori, che ho potuto fare qui il praticantato giornalistico, io non ho fatto scuole di giornalismo, che sono entrate in voga, diciamo, negli anni più recenti, ma di fatto, come dire, io le ho sempre viste un po' come una scorciatoia, passatemi il termine, poi chi l'ha fatta dice, ecco qua, una costruzione in laboratorio, una costruzione in laboratorio di una roba che non è da laboratorio, è da imparare in mezzo alla strada, perché tu impari parlando con la gente, andando sul luogo del crimine, ma anche della notizia buona, ma anche dell'evento, quello che sia, e leggendo un po' quello che ti capita attorno per poi tradurlo in un, nel caso nostro, un servizio televisivo o un articolo di giornale, quello che sia, io l'ho imparato così, andando in giro, e sono fiero di questo, e lo rivendico come forse la più grande opportunità rispetto che la costruzione da laboratorio, cioè la scuola di giornalismo, ed è stato proprio grazie a loro, a tutti questi che ho citato, ai ragazzi dello sport, a Casoni, Rovera e tutti gli altri, insomma, Rindone, Marchetti e tutti quelli che stanno qua. Vi citiamo tutta la formazione. E beh, giusto, ma tanti, ragazzi, io qui ci ho passato quanti anni? Sette, sette anni. Perché il Papa, nel messaggio per la giornata delle comunicazioni, parla proprio del vero giornalismo come del giornalismo che consuma le suole delle scarpe. È vero. Penso che tu abbia cambiato molte scarpe in questi anni. Mi è capitato a Londra, fieramente, volevo portarmela indietro ma non ci sono riuscito, lavoravo già per la RAI, ero andato a fare le elezioni del partito conservatore di Boris Johnson, che poi è diventato premier, ma era il passaggio precedente, e chiaramente si partì, pronti via, devi andare a Londra, vai, sono stata una settimana, abbiamo girato in lungo e in largo, e l'ultimo giorno mi si sono distrutte le scarpe, distrutte. Già mi era... Sei un testimone del giornalismo. Quelle volevo portarmela a casa, perché dico ecco qua, queste le mettiamo da qualche parte per far vedere che si può ancora rompersi le scarpe e stare in giro, poi non ci stavo nel bagaglio del ritorno, ma me lo ricordo come un momento molto piacevole, perché era vero, c'era proprio la scarpa rotta. Bene, ringraziamo Stefano Fumagalli, le sue parole ci hanno veramente arricchito e dato uno spaccato, un'immagine vera del giornalismo, forse le incontreremo per la strada, su un avvenimento da riprendere, da commentare, quindi ti ringraziamo per la tua presenza qui a Telenova. Grazie.